Siamo con Andrea Bellini al terzo Memorial, Antonio Bellini. Guarda, siamo alla terza edizione e ancora di nuovo una squadra di Serie A. Sì, è una terza edizione, sono tre squadre di Serie A veramente, perché c'è l'Acqua e Sapone, c'è il Real Lieti e il Color Max Pescara. È una manifestazione per ricordare mio fratello, che ha dato tanto a questo sport, che è diventato il suo hobby prima dell'ultima parte della vita e che abbiamo condiviso. La possibilità di portare ad Asco uno spettacolo così importante, gratuito per tutti, è un bellissimo modo per ricordarlo. Sicuramente sabato ci sarà da divertirsi, anche perché le squadre si avvicinano adesso al campionato. Già il 14 ci sarà la Supercoppa, dove l'Acqua e Sapone parteciperà contro il Pesaro, che ha vinto il campionato. Il 21 inizia il campionato vero e proprio, quindi questo torneo è diventato ormai, forse il torneo a livello nazionale, più significativo. Perché le tre squadre che partecipano sono sempre le tre squadre di livello nazionale. È sempre bello risentire che la gente si ricorda ancora di Berlino. Sì, io spero che sia sempre così. Come dicevamo in conferenza stampa, abbiamo mantenuto sempre lo stesso tipo di logo. C'è l'immagine di mio fratello, che sogna e ci guarda ancora su questo sport che amava tantissimo. Rimettere il suo viso in giro, almeno per una settimana, ci fa piacere tantissimo. Grazie.